Per poter essere inseriti all'interno delle gradatori ATA per l'assegnazione dei ruoli professionali presso gli istituti scolastici è necessario presentare un'apposita domanda personale ATA nel momento in cui vengono aperti i bandi. In questo video vediamo come presentare la domanda ATA, quando saranno aperti i prossimi bandi per l'inserimento in gradatoria e qual è l'alternativa principale se vuoi iniziare a lavorare come personale ATA. Ciao e benvenuto su Alter Edu, io sono Alessandro e su questo canale trovi tante guide e consigli sul mondo della formazione e del lavoro. Infatti Alter Edu è la più grande piattaforma di corsi online certificati in Italia con un catalogo di oltre 800 corsi online. Il nostro obiettivo è quello di dare alle persone e alle aziende la formazione professionale che cercano per migliorarsi e certificarsi. La domanda ATA da qualche anno può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Polis, presentazione online delle istanze, messa a disposizione dal MIUR. Trovi il link in descrizione. La presentazione della domanda deve essere effettuata entro i termini di scadenza indicati all'interno del relativo bando di concorso. Per poter compilare la domanda telematica è necessario effettuare l'accesso al portale utilizzando le credenziali speed e successivamente seguire la procedura guidata indicando tutti i dati richiesti. Inoltre dovrei possedere i requisiti necessari previsti dal bando per poter accedere alle graduatorie. Si tratta in particolare di requisiti di titolo di studio, di età ed eventualmente di servizio prestato. Ad oggi i prossimi bandi ATA sono concorso ATA terza fascia 2024 rivolto a coloro che non hanno maturato gli anni di servizio per accedere alla graduatoria di prima fascia, concorso personale ATA all'estero indetto ogni anno per assumere personale ATA all'estero e il concorso DSGA 2023 il concorso per direttori dei servizi generali ed amministrativi. Tutti i bandi ad eccezione di quello per DSGA sono per soli titoli. Ciò significa che non dovrai sostenere alcun esame ma il punteggio si basa unicamente sui titoli in tuo possesso e sugli anni di servizio in precedenza prestato. Nel caso in cui il bando di concorso non sia ancora aperto oppure se vuoi prestare servizio nell'attesa dell'assegnazione di un incarico puoi effettuare la messa a disposizione ATA, la MAD. Si tratta di uno strumento alternativo ai concorsi pubblici al fine di lavorare nelle scuole come docenti ordinari, di sostegno oppure come personale ATA. Il modello deve essere debitamente compilato e inviato come autocandidatura nelle scuole presso cui vorresti prestare servizio. Ricorda che tramite le messe a disposizione puoi ottenere solamente contratti a tempo determinato. Non è quindi possibile ricevere degli incarichi a tempo indeterminato mediante questa forma di candidatura. Non è presente alcun limite al numero di istituti scolastici presso cui puoi presentare la tua candidatura. Ovviamente però potrai accettare solamente un incarico. Per inviare la MAD per le disposizioni personale ATA devi essere in possesso del titolo di studio previsto dalla figura professionale che vuoi andare a ricoprire. L'invio della domanda può avvenire in diverse modalità. Compilando un form online presente all'interno del sito web della scuola, inviando una mail o una PEC, oppure una raccomandata, oppure tramite la consegna a mano presso la scuola. Essendo i band di ATA 2024 basati esclusivamente sui titoli, è bene essere in possesso di ulteriori certificazioni, oltre al titolo previsto come requisito di accesso, per poter aumentare il proprio punteggio ed ottenere più possibilità di essere chiamati per un incarico come personale ATA. Vi sono infatti diversi titoli culturali di servizio, come ad esempio le certificazioni informatiche, che hanno diritto a dei punti aggiuntivi, contribuendo così ad incrementare il proprio posizionamento all'interno delle graduatorie. Tali certificati ed attestati devono essere indicati nel momento in cui si procede alla compilazione della domanda ATA. Nella descrizione puoi trovare le tabelle in pdf dei titoli valutabili in base ad ogni figura professionale che fa parte del personale ATA. È bene ricordare che questi titoli devono essere conseguiti prima dell'invio effettivo della domanda. Negli anni che intercorrono tra i band di ATA è quindi molto importante conseguire tali titoli ed attestati. I corsi per personale ATA di Altered sono svolti completamente online e sono tutti riconosciuti, quindi ti permettono di ottenere degli attestati per migliorare il tuo posizionamento all'interno delle graduatorie ATA. Inoltre, siccome le lezioni sono tutte online, hai la possibilità di decidere completamente in autonomia il tempo da dedicare alla tua formazione, conciliando con i tuoi attuali impegni lavorativi. Quindi se vuoi aumentare il tuo punteggio dai subito un'occhiata alla descrizione dove trovi tutti i corsi online di Altered dedicati al personale ATA. Se hai altri dubbi lascia un commento e se il video ti è piaciuto condividilo e iscriviti al canale per essere sempre aggiornato su nuovi contenuti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!